Siamo con Marta De Giovanni, giovanissima campionessa di motocross. Quanti anni hai? 14. E da quanti anni fai questo sport? Da quando avevo 7 anni. Com'è nata la tua passione per le moto? E' stato un colpo di fulmin. Da quando ero piccola mi sono innamorata di questo sport. Visto che mia nonna aveva un'edicola, portava i giornali a mio padre e io li guardavo e mi sono innamorata. E quali sono state le gari più importanti che hai fatto? Il campionato italiano maschile dove sono riuscita a classificarmi per le finali nei migliori 24 piloti dell'area nord e quest'anno il campionato italiano femminile. Complimenti. E dietro di noi abbiamo la tua moto, porta fortuna la possiamo chiamare? Descrivicela. E' un 125. Vai tranquilla, vai tranquilla. E cosa provi quando sei su una moto? Tanta adrenalina e felicità. Quali sono le tue prossime gare? E la mia prossima gara è questa domenica dove andrò a correre all'arco di Trento all'italiano femminile FMI. E cosa ti attrae? Quali sono i tragetti che ti piace di più fare? Non lo sai. Vabbè, un po' in generale. Le mie piste preferite? Di solito le mie piste preferite sono sul duro perché ci sono diversi tracciati, tracciati di sabbia e di duro. Marta, ma tu sei l'unica ragazza quando fai le gare in competizione perché tutti gli altri sono maschietti. Come ti guardano? Dicono ma questa qui noi ce la beviamo e invece tu ti bevi loro? Ma no, dipende. Sono molto competitivi e cercano sempre di arrivarmi davanti. Però non ci riesco, sempre. Non sempre, però nella maggior parte delle volte sì. Senti un attimo, questa qui è una Yamaha, che cilindri d'altra ha? 125. 125, è già potente questa. Che velocità fai di punta? Anche il motocross non è di velocità, però quando smanetti. Fa 70 all'ora al massimo. È pericoloso perché fai dei voli anche, ho visto tue fotografie, quando vai sui dossi, non hai paura, mai. No, i salti sono la parte migliore del motocross. Ti diverti di più. Ma quando torni a casa tua madre cosa dice? Mia madre diciamo che è molto agitata quando vado a far le gare. Ti segue? Sì, sì, molto. Sempre? Quasi? Sì, quasi sempre. E il babbo? Eh, papà è l'autista. E quello che ti porta col furgone? Mia mamma di solito rimane a casa con le mie altre due sorelle, che saluto, Viola e Linda. E diciamo che quello che mi scarrozzo è mio padre. Ahia, bovretto. Ti dà consigli, ti annoia, oppure ti dà suggerimenti che poi tu li metti a buon frutto. Sì, certo. Lui guarda le altre ragazze e mi consiglia come affrontare la gara. Senti, ma quando tu corri, quanti siete? 20 per volta? 15, 12? Mediamante quanti sono i tuoi avversari? Adesso nel campionato italiano le ragazze quest'anno sono aumentate e abbiamo fatto il record e siamo arrivati fino a 34. Tutte ragazze. E tu come sei? Le batti tutte? Sei tra le prime? No, l'ultima gara sono arrivata a 22esima e ho fatto una bella gara. Però tu a livello nazionale vai forte. Sì, abbastanza. Come abbastanza? Ma è forte. Tu sei troppo timida, ma non devi essere, perché qui quando sei in moto ti abbiamo visto, sei un fulmine. Grazie. È vero. Senti, tu sei partita con una moto più piccola, ovviamente, quando avevi 7 anni. Che moto avevi? Sempre una Yamaha oppure un'altra marca? Avevo una KTM 50. 50? Sì. Poi sei passata a? 65-85 e dall'anno scorso 125. Quindi adesso sei una campionessa. Vedo che sei piena di sponsor, ne vogliamo ricordare qualche d'uno? Sì. I più importanti sono il mio motoclub, che mi ha dato una mano in questa stagione e portiamo i suoi colori nell'italiano femminile. Il meccanico ci dà sempre una mano per le moto. Ti coccolano. Poi dopo Larissa intervisterà anche il rappresentante del motoclub, intervisterà il tuo padre, brevissimamente, intervisterà anche il meccanico, perché il meccanico c'è un rapporto di fiducia assoluta. Sì, molto. È bravo? Oppure gli tiriamo l'orecchia? No, è bravo, è bravo. È bravo. Senti, il tuo obiettivo quest'anno qual è? Ti sei prefissato a un traguardo particolare? Quest'anno vorrei concludere bene il campionato femminile FMI italiano e vorrei cercare anche di fare un bel risultato insieme ai maschi nel regionale Ligure. Senti, ma le tue professoresse, tu che scuola fai? Fai ragioneria? Ragioneria sportiva. Come l'hanno presa? Ti coccolano le insegnanti femmine oppure ti coccolano più gli insegnanti maschietti? Più le femmine, ma non tutte, ecco. Non tutte? No. C'è qualcuno che non ti capisce? No, di solito non capiscono perché comunque è uno sport che... Per maschietti? Sì, non è tanto conosciuto, quindi... Vabbè, però non ha ragione di più invece per essere fieri di questa cosa, no? Sì, sì. Tu sei fiero. Io sì, tantissimo. Senti, quante ore ti alleni durante la settimana? Durante la settimana vado sabato e domenica, di solito. Di quante ore? E faccio due ore al giorno, più o meno. Qui a fianco a noi ci sono le persone che più ti stanno vicine nel tuo percorso. Lei è il meccanico. Sì. Che si chiama? Fabrizio. Ecco, ci descriva la moto. Questa è una Yamaha 125, è una moto di serie, solo un po' perfezionata per lo stile di guida di Marta. Abbiamo modificato l'impianto di raffreddamento con dei radiatori maggiorati, dischi freno maggiorati. Diciamo che abbiamo un po' potenziato un po' tutto l'ottima base che c'era già di questa moto. E anche le grafiche, diceva, che erano personalizzate. Le grafiche sono personalizzate con degli amici sponsor che ci danno una mano nella stagione. e sono state un po' create anche da Marta perché lei ha buon gusto per queste cose. Sendo una ragazza, giustamente, ha fatto un po' tutto il disegno e abbiamo tirato fuori, penso, una moto abbastanza carina. Ecco, e questa è una delle migliori moto per la sua età o ce ne sono anche di altre? No, le moto sono pressoché tutte competitive. Ormai, al giorno d'oggi, il prodotto è valido per ogni marca, diciamo. Poi alla fine sta al, diciamo, meccanico-pilota adattare la moto il più possibile per lo stile di guida del pilota, come abbiamo fatto noi. Marta, io ti volevo chiedere, 313 il numero, perché l'hai scelto? Perché sono andata il 31 marzo, e quindi è stato il mio primo numero e lo porto fino adesso. E ti ha portato fortuna, possiamo dire, sì. E invece lì c'è il papà, giusto? E lei cosa prova quando vede sua figlia sulla moto? Io sono il papà. Ah, e lei è il papà. Il papà, mi sono confusa. No, mi sono confusa. No, è sempre un'emozione, perché io appunto la seguo da... Da quando era piccina? Da dei primi passi che ha fatto, sia dalle biciclettine piccoline, poi passata alla moto. È una passione che si tramanda da padre a figlia, oppure lei no? Ma io ho sempre avuto passione per le moto in generale, mi sono sempre piuttosto anche le moto da cross, però lei ha proprio avuto il pallino, da 7 anni ha cominciato, papà comprami una moto, comprami una moto, ha voluto la moto da cross. E lei non ha mai gareggiato? No, no, io non ho mai gareggiato. E invece qui c'è l'assistente, il segretario del... ci mettiamo qua. Ecco, è uno sport che ormai ci sono tanti giovani che partecipano a fare gare. Sì, lo sport ormai diciamo che è tradizione della nostra zona, perché il fuoristrada è composto da motocross e enduro. Diciamo che sono due attività che nella nostra zona sono fortemente praticate. Nell'enduro qui abbiamo avuto anche campioni del mondo nella nostra zona di Sanremo, quindi diciamo che gli sport sono conosciuti. Per quello che riguarda noi, il motoclub Riviera Racing è nato un po' da un gruppo di amici che si è ritrovato un po' diciamo in età avanzata, no? Finito all'età di Marta, dei 20 anni, poi ci si perde, le famiglie, poi ci si ritrova. Quindi abbiamo ricominciato, ci siamo visti una volta, ci siamo incontrati un'altra volta e poi abbiamo deciso di dire ma facciamo un motoclub, giusto per ritrovarci, rincontrarci e ricordare un po' quelli che sono stati i nostri 15, 16, 17, 18 anni. E immediatamente poi è nata la possibilità di poter dare una mano a una ragazza giovane, cioè che è una cosa importante ormai perché bisogna dare una mano a questi ragazzi. Noi facciamo nel nostro piccolo sicuramente poco per quello che questo sport richiede, però un nostro supporto cerchiamo di darglielo in maniera più profonda possibile. Quindi noi ci siamo, il motoclub c'è, siamo pochi componenti, ma tutti si danno da fare e ormai la causa del motoclub è diventata Marta, cioè noi speriamo sinceramente di vederla. Puntate su di lei. Puntiamo su di lei, sì. Bene Marta, allora ci rimettiamo qua. Io ti faccio tantissimi auguri per le tue gare future e speriamo di rivederti qua come campionessa italiana di motocross. Grazie. Grazie. Grazie.